Alla vigilia emozionante della finale per il terzo posto di Nations League tra Olanda e Italia, Denzel Danfries ha rilasciato un'intervista esclusiva a Sky Sport, e le sue parole sono piene di convinzione. Iscriviti al canale per ricevere le prossime news dell'Inter. Il talentuoso terzino olandese ha colto l'occasione per rispondere alle voci sulla sua permanenza all'Inter, questione naturalmente in primo piano durante il fitto mercato. Con un lucicchio negli occhi, Danfries ha espresso il suo immenso orgoglio nell'indossare la maglia dell'Inter, sottolineando i due anni davvero fantastici che ha trascorso al club. Ogni volta che si rivolge ad Appiano, il suo cuore trabocca di soddisfazione. Tuttavia, il calcio moderno è una realtà dinamica, con giocatori che arrivano e partono costantemente. Nonostante questo, il terzino olandese ha dichiarato categoricamente che non ci sono motivi per cercare un'uscita. Il suo amore per l'Inter è innegabile, ma come accennato in precedenza, è necessario attendere e guardare lo svolgersi degli eventi. In questo momento la sua felicità di giocare nell'Inter è indescrivibile. E in questo scenario carico di emozioni, Curva Nord, uno dei tifosi più appassionati, ha deciso di prendere una posizione ferma contro la cessione di Nicolò Barella. Gli Ultras hanno scelto di utilizzare il loro account Instagram ufficiale come piattaforma per condividere una storia che ha risuonato tra i fan. Il messaggio trasmesso dalla Curva Nord è chiaro e obiettivo. Nicolò Barella è nato per essere tifoso dell'Inter, è il presente e il futuro del club. La sua presenza in squadra non è negoziabile. Anche di fronte a proposte allettanti, come il presunto assalto del Newcastle o di qualsiasi altro club, gli Ultras si aspettano che Barella resti fermo sulla sua posizione. Una recente proroga del contratto fino al 2026 ha consolidato il suo impegno con la squadra, e ora i tifosi sperano che possa raggiungere la gloria insieme all'Inter. Queste parole piene di convinzione e passione hanno sicuramente risuonato tra i tifosi, rafforzando ulteriormente il legame tra il club, i giocatori e il loro incredibile pubblico. Con Danfri e Sebarella che dimostrano così innegabilmente il loro amore per l'Inter, è impossibile non cogliere l'ondata di entusiasmo. Lascia la tua opinione nei commenti.